diario di due imprenditori digitali ciao sono daniele besana ciao io sono marco gatti siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online io sono il fondatore di presentazione animata punto it un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti io sono il fondatore di wpok servizio di supporto wordpress con modifiche limitate da 89 euro a mese in questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online gioie e dolori successi e fallimenti obiettivi e risultati aggiornato ogni due settimane di venerdì ciao daniele ciao marco come stai dove sei immagino perché il tuo background se non te lo porti in giro è sempre quello di amsterdam è arrivata l'estate finalmente 20 gradi sto bene sto bene sto bene stanco ma sto bene tu bravo daniele come vedi dal mio background io sono diventato più nomade di te non si capisce come mai tu eri quello che andava sempre in giro e io stavo sempre fisso invece guarda qua nuovo nuovo in teoria invece sono in ufficio nel mio ufficio di milano ok che è un sacco che non ci devo andare perché ho un appuntamento con un cliente che viene qui in ufficio e quindi sono venuto in ufficio solo che tutta la strumentazione io avevo in ufficio computer eccetera l'avevo portata a casa adesso quindi sono venuto col portatile sembra che che vada bene ho portato il microfonino sì 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 ti sente ti sente bene perfetto daniele un disastro un disastro cioè ho per la prima volta dopo non so quanto tempo ho fatto la strada casa ufficio che sono ben due chilometri e mezzo in orario di punta quindi con le scuole e coi semafori rotti cioè quelli lampeggiano invece che in prossimità della scuola il semaforo che lampeggia bellissimo un casino un carnaio non sono più abituato non sono più mentre prima era la normalità quindi farsi di questo traffico questi 15 minuti di macchina per fare tre chilometri che quasi quasi a piedi di corsa ci metti lo stesso tempo a piedi quasi e pensavo come ci si abitua alle cose brutte e non ci si rende conto e quindi come ci si abitua ai rumori della città come ci si abitua al traffico della città e non ci si rende conto di quanto sia meglio stare fuori è ovvio parlarne però ti devo dire quando io normalmente venivo in ufficio sapevo che era così mi facevo il mio tran tran in macchina nel traffico aspettando e mi è pesato oggi ho detto ma chi me lo fa fare adesso che faccio smart working lavoro da casa e ci impiego più o meno 30 secondi da trasferirmi da un posto all'altro ti capisco perché se io ripenso che a vent'anni andavo a lavorare a milano tutti i giorni a fare il pendolare 40 minuti di moto oppure un'ora e passa di macchina treno metro per arrivare in ufficio cioè non mi sembra vero ma quando lo facevo non è che mi lamentavo come dici tu era la normalità lo fai però quando provi qualcos'altro di diverso poi ti guardi indietro e dici col cacchio passiamo ai ringraziamenti ringraziamo il nostro mitico sponsor active power il rivenditore italiano di diversi prodotti diversi servizi tra cui anche active campaign che quello che diciamo il primo è quello che ha reso famoso active power active campaign è il software di email automation e marketing automation che utilizziamo oramai da anni sia io che te marco diciamo riconosciuto come il più potente per tutto quello che ha a che fare con le automazioni quindi per mandare sempre l'email giusta al momento giusto al contatto giusto e per i nostri digi imprenditori c'è uno sconto del 10 per cento con il coupon digi imprenditori che valido per il primo anno di dei servizi di active power e anche se avete già active campaign americano potete passare active power e quindi avere l'interfaccia in italiano ma soprattutto il supporto in italiano via chat via telefono via gruppo facebook via email grazie grazie active power nel nostro podcast grazie anche digi imprenditori con cui ci confrontiamo regolarmente nel nostro gruppo telegram quindi se non fai parte della nostra community trovi il link nelle note all'episodio ragazzi cari digi imprenditori avete detto ai vostri amici imprenditori del podcast del gruppo perché secondo me potrebbe essere interessante anche per loro poter dialogare con altri digi imprenditori parliamo siamo un gruppo di pari che abbiamo le stesse tematiche le stesse problematiche e ci aiutiamo a vicenda senza pagare daniele è bello di tutto ciò è una community non a pagamento esatto marco vediamo ai gli obiettivi delle due settimane che sono che sono passate vai dai parto io due obiettivi avevo due obiettivi che erano legati a due eventi il primo è un vp ok day dovevo fare uno speech al vp ok day daniele l'ho fatto ce l'ho fatta è andato bene sono contento tutte le automazioni per far partire i video sono sono andate sono riuscito a farcela sono riuscito anche starci nei tempi ma questo di solito mi viene abbastanza bene quindi un grosso problema confermo che è andato molto bene sono contentissimo e poi avevo l'altro evento che era il neuromarketing academy che daniele ho visto solo la prima parte devo dirti la verità interessantissimo ma veramente veramente interessante tranne un intervento mi è piaciuto tantissimo non sono riuscito a seguire il resto un po per pigrizia un po perché dando poi le registrazioni le registrazioni me le faccio con calma ho anche incominciato a farmi una bella mappa mentale di tutte le informazioni che danno guarda io ho visto un quarto del del festival quindi obiettivo fail perché l'obiettivo era quello di guardarselo tutto ma le registrazioni non me le hanno ancora mandate questi disgraziati perché ho detto che così con le registrazioni un po le guardo a velocità un po più veloce e un po posso magari fermarmi o tornare indietro e risentire certi punti che sono più più critici più più importanti per poter poi prendere i miei appunti quindi 50 per cento i tuoi obiettivi anch'io avevo uno il mio primo obiettivo era di preparare fare bene il più ok dei e questo è stato un win un grosso win poi vi racconto tutto dietro le quinte dell'evento e invece il secondo obiettivo completare il restare del sito indovina un po è un fail anche stavolta perché si sta trascinando decisione mia nel senso non volevo mandare online il sito nuovo la settimana vp ok dei perché sarebbe ho capito che poi ci sarebbero state sicuramente cosette a sistemare eccetera ed ero già troppo troppo pieno e quindi adesso è passata un'altra settimana ancora non è non è non è live però sa da fare sa da fare quindi per me si 50 per cento anche per me bene bene allora raccontaci questo vp ok day sì allora la diciamo che tutta la settimana che ha portato un più ok day per me è stata molto molto stancante e non mi ricordo l'anno scorso l'anno scorso mi ricordo che avevo avuto la febbre il giorno a febbre a 40 il giorno prima però mi ricordo questa sensazione di stanchezza e si è stato proprio proprio abbastanza abbastanza intenso come organizzazione la l'evento in sé adesso vi racconto le cose le cose che sono andate bene le cose che si può che si possono migliorare comunque avevo paura di vedere cosa succede quest'anno che appunto è passato magari un po l'effetto di questi live event rispetto all'anno scorso che erano un po ancora novità l'anno scorso eravamo in pieno lockdown quest'anno no però devo dire che la a livello di partecipazione è andata bene i feedback sono stati molto positivi feedback tanti hanno detto che è un evento pratico un evento dove non c'è fuffa dove non ci non c'è gurismo e mi piace c'è che lo trovo anche allineato con quello che facciamo in questo podcast insomma lo stile lo stile nostro poi è quello allora cosa è andato bene sicuramente rispetto all'anno scorso il timing cioè i tempi sono stati rispettati l'anno scorso si era accumulato un'ora e mezza di ritardo e quest'anno che cosa hai fatto di diverso allora sono stato ho insistito di più ma alcuni interventi sono stati mezz'ora alcuni interventi sono stati 45 minuti e alcuni sono stati di un'ora dipende un po dal dal topic e dal format poi insistendo molto più dell'anno scorso insomma sono stato più stricto con con il discorso di tempistiche e di spazio alle domande sono state molto bene le interazioni in live chat mi piace molto in questi eventi live cioè il plus è proprio l'interazione nella chat i commenti che arrivano i feedback le domande è proprio il motivo principe secondo me per partecipare live è proprio poter poter interagire in diretta altrimenti uno si ascolta si ascolta le registrazioni è andato bene il confronto ho fatto nella mattina c'era questo esperimento no confronto abbiamo parlato di seo versus ppc con fabrizio bestoso per la parte seo e gabrile contilli per la parte ppc io ho fatto un po da moderatore facendo domande l'uno e l'altro dando spazi e la cosa è andata è andata bene sta piacevole ed è piaciuta molto è stato l'intervento confronto confronto civile guardate il video per decidere voi chi ha vinto però daniele noi abbiamo fatto una puntata contro la seo prepararci una puntata per sparare contro la ppc per partire ne abbiamo ne abbiamo per tutti ne abbiamo per tutti però proprio l'obiettivo era capire insomma quando va bene uno quando va bene l'altro infatti in questo in questo senso ha funzionato e è interessato e penso che sarà da ripetere questa cosa dei confronti gli speaker sono andati sono andati molto bene insomma perché sono stati tutti molto molto preparati tutti gli interventi sono stati stati belli e interessanti su questo cioè anche magari degli interventi ti dico dove avevo un po paura che magari erano cose un po troppo base un po troppo sono i feedback sono stati positivi poi c'è sempre l'argomento che interessa una persona che non interessa l'altra però in generale li ho trovati molto livellati e che cosa si potrebbe migliorare non diciamo andato male ma si potrebbe migliorare è troppo lungo la giornata intera di sabato sicuramente troppo lunga è troppo lunga da seguire è stata troppo lunga anche per me da fare perché marco cioè alla fine abbiamo fatto nove ore e venti di live e quando ho finito c'è ero più distrutto che 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 corre la maratona cioè la la schiena sono stato in piedi con la stand up desk e la schiena era completamente distrutta e poi proprio stanco cioè sia a livello fisico che a livello mentale anche perché quest'anno l'anno scorso erano più tutte presentazioni quindi sai stacchi un po il cervello e lasci fare la presentazione quest'anno diversi interventi sono stati a domanda e risposta è un livello di attenzione di partecipazione da parte mia molto molto più alto quindi stato molto stancante io ho visto che come interesse sabato mattina siamo pariti bene siamo arrivati fino alle tre fino a metà pomeriggio con un buon livello di seguito online poi la gente andava veniva insomma c'era molta gente che si collegava magari per alcune parti poi si staccava e però dopo metà pomeriggio c'è stato un grosso calo quindi probabilmente farò solo sabato mattina o forse un vb ok week dove ogni giorno della settimana magari facciamo uno due interventi e quindi più spezzettato e magari finire il gran finale sabato mattina quello potrebbe funzionare insomma sicuramente un po da rivedere poi le chiacchierate cioè il tipo di intervento dove non c'era una presentazione fatto un po chiacchierata secondo me un po da rivedere perché perché ho avuto l'impressione che senza una presentazione non riesci proprio a dare dei punti più difficile che qualcuno finisca che arrivi alla fine che dice ok ho dei punti dei takeaways qualcosa che mi porto a casa mi sembra un po meno meno strutturato o comunque più difficile far passare dei concetti appunto da dei punti da portarsi a casa poi la regia sulla regia io ho fatto un po fatica nel senso che dovendo controllare la chat e tutto inserendo vabbè non dico che è andata male però mi chiedo forse per un evento così si potrebbe avere una persona in più che filtri commenti che si attiva nella chat che aiuti in qualche modo nella regia e poi chrome google chrome mi ha dato diversi problemi perché non lo so si dopo un po di tempo inizia a rallentarsi proprio con stream yard a questo problema quando clicco non fa con stream yard e anche con con google make quindi forse qualcosa legato alla webcam non lo so inizia a rallentare quando cliccono ci mette diversi secondi per fare le cose non capisci se è partito o no e però volevo passare a firefox ma non mi era arrivato il codice per il login quindi alla fine l'evento l'ho iniziato usando chrome e ho dovuto aspettare tutta la mattina l'ho fatto l'ho fatto con chrome che ha dato qualche problemino e detto questo marco volevo raccontare un attimo anche a livello di organizzazione la o di comunicazione con active campaign quindi active power ho creato questo questa automazione dove avevo preparato quanto quanto possibile le le email in automatico quindi chi si registra chi si registrava riceveva l'email di grazie poi riceveva ricevuto un email in cui abbiamo annunciato che era pronto il il calendario della giornata il piano il programma della giornata la giornata stessa c'era reminder il giorno prima quindi venerdì l'email che diceva sei pronto per domani questo è il link per collegarsi e il giorno stesso c'era un email che partita le poco prima delle nove per dire siamo live collegati e un'altra partita poco prima delle dell'una e mezza per dire guarda che stiamo per riprendere quindi insomma un po di mail per per comunque ricordare e mantenere attenzione poi c'è stata un email che è stata partita subito a fine dell'evento cioè in realtà le avevo programmate non le ho non le ho schedulate ero io che togliendo il tempo di attesa d'automazione ci avevo messo un tempo di attesa di 929 anni aggiustando quel tempo le sbloccavo io perché sai non sapendo poi bene esattamente tempistiche tutto alle dopo dopo la chiusura dell'evento ho fatto partire questi email in cui chiedevo subito un feedback a caldo che puntava a un form su ai da form un form dove chiedevo una serie di domande di quanto ti è piaciuto l'evento quali sono quanti interventi hai seguito quando ti sei collegato mattina pomeriggio tutto il giorno e raccogliere cosa potremmo fare meglio insomma un for un una survey per raccogliere questa qua ha funzionato abbastanza ho anche invitato le persone a mandare messaggio un messaggio vocale su telegram e ho ricevuto un paio di messaggi vocali abbastanza elaborati già sabato sabato sera e poi il lunedì ho mandato le offerte le offerte perché durante la giornata alcuni alcuni in alcuni interventi c'è una storia delle offerte speciali quindi le ho raccolte tutte in un email lì ho sbagliato come un fesso ho mandato le offerte l'anno scorso 100% colpa mia perché faccio le cose agitato quindi ho dovuto mandare la seconda email di richiamo queste sono le offerte giuste e adesso oggi punto a mandare l'email con le registrazioni che nel frattempo ho preso la live gigante e l'ho spezzettata nei vari interventi e che anche per i nostri ascoltatori del podcast che vogliono vedersi gli eventi dove li trovano e allora se si sono registrati li riceveranno notifica via email altrimenti sono sul nostro canale sul canale youtube di di più ok mettiamo nelle note dell'episodio il link si mettiamo un link mettiamo un link due anni sente nel podcast vuole sentirsi questi eventi con tanto take away tante cose da portarsi a casa gratuite una cosa che ti dico marco mi ha sorpreso che io sulla pagina dell'evento ho lasciato attivo il form di registrazione e quasi per errore ma continuano arrivare registrazioni continuano arrivare persone che si iscrivono all'evento quindi lo lascio lì e comunque ho cambiato la sequenza adesso insomma diventano lib che si raccolgono per poi mandargli la informazione mandargli le video l'email con la notifica dei video ma il form dell'evento io mi ricordo che tu avevi un pop up tipo che si attivava sul tuo sito che faceva sì o è la home adesso c'è la pagina del vp ok dei pagina dedicata adesso ho tolto il pop up però credo che comunque lo trovano magari su qualche social o qualcuno tipo alcuni speaker che hanno condiviso sui social o sulle newsletter magari vedono newsletter dopo una settimana ci cliccano e decidono di registrarsi diciamo è stato quasi per errore non l'ho tolto però in realtà è meglio lasciarlo chi vuole si può registrare per avere per avere le poi video all'evento bene ma hai fatto anche del ppc pay per click per l'evento ho fatto 20 euro di facebook advertising giusto per dare il boost perché sai che oramai con facebook se non pure per raggiungere le persone che ti seguono sulla pagina devi comunque pagare e non ho guardato che risultati ha portato sinceramente dovrei guardare che cosa che cosa smosso bene daniele e sì forse la promozione la promozione l'evento si potrebbe studiare un po meglio insomma l'evento è bello piace si potrebbe cercare di raccogliere più persone promuoverlo di più ecco adesso ti dico la mia esperienza del vp ok dei per le mail automatiche ok adesso forse perché lo sappiamo utilizziamo le mail automatiche per quanto le personalizzi poi capisci che non sono che non che non sono personalizzate cioè che sono automatiche e io ho ricevuto una mail in particolare da te in cui mi dicevi come utilizzare questo fantastico strumento per fare l'evento che poi lo stesso strumento che utilizziamo da anni per registrare il podcast sì e lì ho detto proprio automatica perché lo capisci lo capisci perché vedi che è finta è finta caro marco allora adesso ti spiego allora le mail agli speaker non erano automatiche però però ho copiato mettevo a tutti lo stesso lo stesso lo stesso testo in realtà le ho messe a mano ma era pure a mano nel tuo caso sì non le ho personalizzate abbastanza era pure a mano però ho avuto proprio questa sensazione quella che ti dicono attenzione quando fai le mail automatiche che poi le devi personalizzare perché sennò sembrano automatiche e in realtà c'è stata questa mail semi automatica che io ho proprio sentito come quando me l'ha mandata completamente automatica poi va bene ci stava no che davi le informazioni in automatico su come accedere all'evento per gli speaker però ma mi ha colpito questa queste mail per il resto è andato tutto bene c'erano i tempi si sono stati nei tempi ho dovuto correre tagliando un po di video perché ho detto se no poi sforavo quello che mi è piaciuto è che non ho più la paura della telecamera cioè io una volta avevo l'incubo di parlare in pubblico poi questo podcast è anche nato per forzarsi a parlare no e mentre in passato no eventi precedenti cioè avevo sempre il timore cosa cosa funziona cosa non funziona un po perché con te mi sentivo a casa tra l'altro e e poi comunque cioè sono andato molto 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 tranquillo e niente quindi mi sono portato a casa che il podcast funziona ragazzi fatevi un podcast comunque vi aiuta ora noi non saremo la perfezione del public speaking per carità c'è gente sicuramente più più brava di noi a parlare noi siamo tipi un po più pratici che non dei bla 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 tori però daniele sta aiutando tanto questo podcast penso proprio di sì io io ti ho visto molto a tuo agio e completamente sì 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 poi lanciare lanciare tutto far partire video e sì 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 quello sì e questo podcast ha aiutato tantissimo bene benissimo quindi aspettiamo l'anno prossimo per il prossimo vpok day il neuromarketing academy volevo dirti ha fatto questo format di tre ore la mattina tre ore il pomeriggio no un'ora e mezza la mattina un'ora e mezza il pomeriggio quindi tre interventi di mezz'ora per cui eh lasciava anche la gente che aveva altro da fare in smart working da fare invece di occuparsi tutto il giorno per cui magari potrebbe essere un format come detto te e loro in in tre giorni ha fatto le tue nove ore che tu hai fatto in un giorno solo la tua maratona maratona mentana di besana mentana a te la parola marco daniele io volevo raccontarti che c'è stato un qualcosa che mi ha un po' svoltato è un periodo negli ultimi mesi in cui mi sento completamente mi sento completamente travolto in cui ho perso il controllo totale di tutte le mie attività di tutte le mie operazioni le mie società di tutti i miei progetti avevo già parlato dei tool che utilizzavo io ero iniziato a partire da dal tool che si chiama acquire adesso non so in inglese come si funziona funziona è un tool che permette di fare di tenere traccia dei progetti anche collaborativo io l'avevo preso per questioni collaborative era un tool abbastanza giovane però con un team di sviluppo che continuava a sviluppare però aveva un'interfaccia grafica un po un po vecchio stile e la cosa che mi piaceva meno era il backup che io ogni volta che devo fare il backup che comunque erano i miei dati che tutti i miei progetti che davo comunque mano a qualcuno cioè mi ci impiegavo un'ora perché per ogni progetto dovevo prendere dovevo salvarmi il csv avevo una quarantina di progetti in corso non mi sono mai trovato bene poi sono passato a un altro tool non volevo parlarne nel podcast ma poi non ne ho parlato si chiama taskade si chiama task come task taskade.com con un'interfaccia grafica molto più carina ma che poi alla fine alla parte pratica ogni volta che inserivo un task poi dovevo inserire a chi doveva essere associato e quindi a me perché comunque io lo usavo principalmente per per me e la data su cui e poi alla fine non mi trovavo bene finché non so come non so perché non mi ricordo quando mi è venuto in mente mi è tornato a sì 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 adesso capisco non mi è venuto in mente mi è arrivata una mail da to do ist che era un tool che io utilizzavo anni fa in cui parlavano di un cambiamento dei piani tariffari in cui davano qualcosa in più nel piano free e ho detto vabbè dai proviamo perché di to do ist io mi ricordavo questa cosa molto carina che tu scrivevi nel task chiamare daniele besana domani alle 15 e 30 e lui automaticamente ti metteva un prememoria alle 15 e 30 dovevi poi aggiungere metti pianifica alle 15 e 30 e ho riprovato daniele fantastico funziona anche benissimo con il riconoscimento vocale per cui sono in giro sono in macchina sono fuori col cane penso sono di corsa sto correndo tiro fuori il cellulare detto il tutto me lo mette mi mette la priorità mi mette la persona mi mette il tag mi mette tutto basta ed è ed è fantastico tu gli dici guarda metti questa cosa qui ogni settimana tutti i giorni alle 3 del mattino lui e lui lo fa fantastico e quindi è la cosa che mi ha entusiasmato era questa aggiunta rapida e che poi in automatico lo potevi mettere nei vari folder quindi nei vari progetti direttamente in automatico senza dover prendere andare cliccare e quindi una user experience fantastica ora come interfaccia è molto spartana però la user experience mi è piaciuta tantissima tant'è che daniele sono passato al piano pagamento direttamente il piano pagamento perché il piano pagamento c'è il promemoria quindi se mi devo mettere di richiamare una persona fra un'ora io gli dico vocalmente guarda tra un'ora chiama tizio caio e lui automaticamente me lo mette me lo mette in calendario e poi mi manda il promemoria e io non è che devo andare prendere scrivere il task e poi aggiungere il calendario e me lo fa in automatico ed è una cosa che mi è piaciuta mi è piaciuta tantissimo mi piace tantissimo la barra di ricerca come cerca e mi piace i che c'ha i livelli di priorità ma questo ce l'hanno più o meno tutto non l'avevo mai utilizzati per cui nella mia routine quotidiana cioè quali sono le cose su cui io mi devo focalizzare allora io su quelle gli do priorità uno e nel mio task nelle mie task del giorno io vado e ho la priorità uno cioè me le evidenzia in rosso me le mette in alto e quindi so che quelle sono le le cose importanti che che devo fare quindi quando la sera guardo e pianifico oppure anche la mattina no mi metto pianificare se non l'ho fatto la sera priorità uno fantastico ce l'ho subito in in evidenza posso mettere tutte le etichette che voglio quindi posso etichettare vp ok infinite etichette e poco le etichette poi posso creare tutti i filtri fammi vedere tutte le cose che riguardano il diario dei due imprenditori digitali e lui mi evidenzia solo i task legati a quelle etichette anche se quelle etichette fanno parte di diversi progetti no se per esempio dei progetti lavorativi io etichetto dei collaboratori con cui sto lavorando quando parlo col mio collaboratore filtro con l'etichetta del collaboratore ho tutte le cose che ho in ballo con quel collaboratore c'ha di carino anche tutta una serie di add-on per cui ho l'add-on di gmail che posso integrare gmail con to do east e posso trasferire una mail direttamente in sul task banalmente con un click quindi posso mettere la mail e posso perché magari è una mail che mi serve fra tre giorni e io posso automaticamente mettermela associata in un task associata in un progetto con il link di gmail per cui io quando entro clicco mi apre direttamente la mail di gmail bellissimo all'integrazione con asana cosa che io utilizzo soprattutto con i miei collaboratori l'integrazione con asana è bellissimo per cui io non devo più switchare cosa facevo prima prima switchavo tra gmail il calendario asana trello adesso con questa integrazione ho tutto dentro to do east per cui nel mio nei miei task del giorno mi compaiono direttamente le le task di asana per cui so esattamente se qualcuno dei miei collaboratori in asana mi scrive e mi associa a un task mi compare direttamente tra le mie cose da fare senza dover fare lo switch qui mike ci dice anche io ho to do east e mi piace tra l'altro anche la possibilità di vedere i task in modalità board alla trello per capirci sì 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 esatto poi i task li puoi dividere col cambal col board tipo tipo di trello c'è un'integrazione con trello non ancora attivata perché io utilizzo soprattutto asana trello solo con determinati collaboratori integra il calendario per cui il calendario è un'integrazione bionivoca quindi se qualsiasi cosa io metto sul calendario dentro nel folder calendario mi compare direttamente nel mio calendario qualsiasi cosa che arriva nel calendario qualsiasi appuntamento mi compare direttamente in asana praticamente in tempo reale puoi mettere tutti i commenti che vuoi e vari task e poi l'altra cosa vabbè che fanno quasi tutti mi arriva la mattina la mattina io quando mi alzo c'ho la mia mail mi arriva la mail di di asana dove mi dice guarda questi sono tutti i tuoi task del giorno per cui riesco a riprendere in mano tutto la tutto tutto quanto tutti i miei casini da multipotenziale quindi tutti i miei progetti dal progetto di ristrutturazione della casa perché sto ristrutturando casa a tutti i progetti lavorativi e questo è veramente mi sta ricambiando mi sta come dire rigasando completamente mentre prima cioè veramente mi bloccavo non riuscivo io avevo tutti questi task ed era un po come sfarfallavo da un po da una cosa all'altra mi muovevo da un task all'altro da un progetto all'altro ed ero quasi paralizzato nel fare le cose e dicevo strano perché prima non era così e quindi sto riprendendo tutta la questione della get things done per fare le cose per la gestione dei progetti ed è e con to do ist mi sto trovando benissimo c'è to do ist per qualsiasi per linux c'è per to do ist per android per ios per per qualsiasi applicazione purtroppo l'unica cosa che non ho trovato che non è non è integrato in android auto però a parte questo quando faccio i viaggi vengono in mente tutte le cose perché soprattutto è quando ho quei momenti in cui stacco dal computer no per cui vado a correre sono in viaggio sei lì che ti vengono le idee in cui ti vengono centomila cosa devo fare questo devo fare quell'altro e con to do ist è fantastico perché proprio con col messaggio vocale riesco a fare in un attimo tutto lo mette direttamente nei folder con la data guarda mi è mi è mi è un po' svoltata la la vita e poi c'è un'altra cosa un altro downsize io avevo parlato già in uno dei degli obiettivi delle puntate precedenti che ho sempre fallito era quello di andare in asana in box zero perché avevo tanti task di asana che non riuscivo a starci dietro allora cosa ho fatto abbiamo iniziato a usare to do ist ho visto questa bellissima integrazione con asana proprio integrazione a uno a uno e ho detto vabbè integro asana e lui e lui mi ha detto va bene quando quando lo integri dice tutti i task vecchi che io dovevo andare in inbox zero me li ha buttati dentro in to do ist per cui quando ho aperto i task da fare del giorno lui ti fa vedere i task vecchi precedenti che tu non hai ancora chiuso e me ne sono trovati 150 quel momento avere 150 task ho ritrovato lo stesso blocco che avevo in partenza perché quando hai troppa scelta non sai più non sai più cosa fare però anche lì carino e asana c'ha il suo folder o quindi ho preso il folder di asana tutti quei task lì li ho spostati ho detto vabbè li metto nel sabato sabato vado a rivedermi questi e tutte le robe vecchie di asana che devo andarmi a rivedere poi sabato tra il vp ok day un sacco di cose e non ho fatto niente ho dedicato alla famiglia per cui sono ritornato nel marasma di avere 150 task per fare il giorno però daniele fantastico sono veramente veramente elettrizzato gasato dall'utilizzo si sente si sente si sente io to do ist lo utilizzavo un paio di anni fa anche io poi ho smesso un po come ho smesso non ho seguito poi come si è sviluppato il prodotto però come racconti adesso ne hanno fatte tante di cose di cose e soprattutto l'integrazione ok quindi io adesso io seguo solo to do ist e gmail non ho integrato gmail si può integrare anche gmail con to do ist che tutte le mail ti compaiono in to do ist questo non l'ho ancora fatto però voglio dire gmail attualmente sto andando molto bene con gmail inbox io integro in to do ist solo quelle gmail che devono essere posticipate per n motivi che me le tolgo da gmail e mi metto in to do ist perché to do ist è diventato il posto dove dove sono per cui sul mio telefonino adesso c'ho to do ist nella home che è il tasto principale che schiaccio poi ho anche l'app apposta sul computer si può fare via web ma c'è proprio l'app dedicata con tutte le mie notifiche adesso vivo vivo su to do ist e non devo più switchare tra tante cose perché ho tutto in un unico strumento questa è la cosa è il vantaggio che sto che sto trovando lo usi anche in modo collaborativo con altre persone no in questo momento no lo usi però lui è nato per essere collaborativo con le altre persone perché comunque in collaborazione con le altre persone io sto usando eh asana asana e trello e quindi spostare tutto tutti tutto e tutti insomma diventa un po però riesco a gestire tutto direttamente entro to do ist senza dover switchare in continuazione da una cosa all'altra perché poi uno mi scrive su uno uno sull'altro allora tu non hai invece se hai tutte le notifiche tutto mi sembra di essere tornato ad avere tutto sotto controllo che è una sensazione notevole quindi non solo questioni lavorative ma anche questioni private ok quindi da da adesso sto ristrutturando casa e quindi tutte le cose connesse con la ristrutturazione della casa ti metti un tag diverso e le separi sì 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 se pari veramente veramente interessante grazie Marco grande tool scusa Daniele solo una cosa che non ho detto che comunque la parte a pagamento perché per me la parte a pagamento ha due vantaggi uno è che mi permette di avere fino a 300 progetti invece credo che nella versione free siano 5 e poi permette di avere i pro memoria permette di avere i pro memoria permette di avere la cronologia limitata del passato se mai uno la voglia utilizzare e poi ha il backup automatico giornaliero quindi io vado sulla funzionalità backup ho i backup di tutti i giorni un po come fanno i tool di wordpress no che ti fanno tutti i backup giornalieri e con un click scarico tutto il backup di to do ist senza dover andare progetto per progetto come era prima e quindi posso avere in locale il giorno che to do ist va a gamba all'aria per mille motivi posso comunque mettermi un task che ogni settimana mi scarico un backup che comunque con un click ci impiega ci impiega ci impiega un minuto farlo ok marco io volevo farti una domanda e confrontarmi su un tema mandare i collaboratori a fare a fare un corso quando fai fare un collaboratore ai tuoi collaboratori un corso se faccio fare i tecnici un corso tecnico dove alla fine c'è un esame un certificato è abbastanza facile no quando fanno passano l'esame hanno il loro certificato siamo tutti contenti però ci sono dei corsi dove più difficile misurare un risultato mi spiego ho fatto fare dei corsi relativi alla customer journey a valeria che segue il customer success questo sabato filippo farà un corso su tecniche di vendita poi dopo c'è alla fine cos'è mi faccio raccontare è stato bello è stato brutto però quali sono poi in termini pratici allora il problema è che il corso dell'esigenza del corso deve nascere da dal collaboratore perché se lo vede come una forzatura è come quando mi hanno fatto fare il corso della sicurezza cioè è obbligatorio te lo devi fare sì ma due palle si sei portato a casa guarda pensavo ad altro mentre l'ho fatto ok perché lo dovevi fare sì perché lo dovevo fare l'esame finale ok se gli fai fare un corso che non gli interessa che non c'hanno neanche l'esame finale e che non lo e che non puoi controllarlo non serve a niente no ma appunto io adesso a filippo gli ho detto guarda filippo settimana prossima dimmi cinque cose che hai tirato fuori da questo corso e che possiamo per migliorare il nostro processo di vendita non ha tanto il dubbio sul fatto che non gli interessi il mio dubbio è in pratica daniele quanto è concordato o quanto è imposto perché tu comunque sei il capo lì dentro ok sono capo quindi io ti faccio fare un corso alla fine che cosa voglio sì vabbè cioè tu mi imponi io lo faccio perché tu mi imponi di farlo ma che due palle però non deve essere cioè il corso non è fino a se stesso a meno che è quello della sicurezza quello dove devi per forza farlo se è un corso io ti faccio approfondire un argomento perché io voglio che tu poi quella parte lì la fai meglio la migliori no no ma che tu abbia delle finalità giuste questo non mette in dubbio nessuno è quello che è il collaboratore cioè in termini pratici cosa cosa li cosa li dici e in teoria è vuoi tu fare dei corsi per la tua crescita personale che possano essere utili per il lavoro che stiamo facendo insieme ok cioè se c'è un input da parte sua di fare un corso non da parte tua va finito il corso che cosa cosa ci facciamo con queste informazioni tanto antonello ci dice ho lavorato in una società dove noi potevamo scegliere un corso a trimestre la società lo pagava in più dovevamo preparare una presentazione per tutti i colleghi al team ecco esatto questa questo è una cosa tangibile fai il corso ci viene a raccontare in poche parole quali sono le cose che ti porti a casa che sia si applicano alla nostra realtà questo va bene quindi non a te ma al team quindi non deve relazionare a te cosa ho portato a casa ma tutto il team poi è una questione di vendita per cui la vendita la segui te e lui e basta gli altri sono tecnici secondo me fa bene anche gli altri sì sì potrebbe far bene far bene a tutti grazie antonello è uno spunto utile ovviamente i corsi erano legati al digital marketing anche a crescita personale eccetera sì gli argomenti concordati certo che se poi ti vuole ti chiede un corso di barcavela o di chitarra cioè voglio dire forse ok ok volevo chiudere con due consigli allora il primo se avete wordpress e utilizzate vcommerce questa settimana con scadenza questo venerdì quindi appena ascoltate il podcast subito vcommerce fa il 40 per cento di sconto questa settimana sulle estensioni 14 maggio esatto quindi se è un'occasione secondo me interessante perché sono plug in fatti bene quali consigliati proprio da vcommerce con 40 per cento di sconto seconda cosa un nuovo tool che ho trovato e che è di un nostro digi imprenditore del mitico mike mike rubini appena lanciato un nuovo sas che si chiama podda.io che ti permette di trovare tutti i podcast in cui è apparsa una persona come ospite quindi se tu vai su podda.io e metti dentro marco gatti trovi tutti i podcast dove marco è stato ospite l'ha lanciato letteralmente due giorni fa quindi vedo che a livello di fonti c'è ancora un po di lavoro a fare però il concetto è vedi dove questa persona è stata intervistata se vuoi attivare una notifica per essere notificato quando ci saranno nuove interviste di questo personaggio quindi è molto semplice però è utile. Get notified when marco gatti appears on a new podcast ci sono tre podcast in cui sono apparso e poi dice anche marco gatti ha anche un podcast i podcast di marco gatti grande mike in quante ore sviluppato mike visto che sei nella stai seguendo la live quante ore ci hai messo a fare questo nuovo sas con anche pagamento registrazione modalità premium e tutto quanto abbiamo un nuovo sponsor cinque ore in cinque ore ecco praticamente il tempo in cui io penso 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 a cosa fare grande mike complimenti complimenti mike robini podda.io va bene daniele dai damoci gli obiettivi per le prossime due settimane sì io vorrei mettermene solo uno finire il restyling e mandarlo live perché oramai è diventato un tormentone tu io daniele allora premesso che le prossime due settimane le svernerò in posti molto molto sabbiosi e molto molto mareschi proprio davvero nomade digitale ma anche fuori italia non so quanto avrò tempo da lavorare ma io adesso c'ho questo nuovo acronimo che si dice yolo conosci l'acronimo yolo you only live once you only live once insomma a certo punto una volta sola una volta sola e quindi lavorare lavorare basta no e quindi vado una settimana al mare con la moglie e vado una settimana in giro per il mondo vale questo per imprenditoria e investimenti che svelerò nella prossima puntata perché il prossimo giovedì chissà dove sono in qualche parte del mondo chissà a che ora riuscirò a collegarmi visto i fusi orari diciamo si riprende a viaggiare infatti dovrò farmi questo tampone un casino poi vi racconterò i problemi dei tamponi e quindi mi sono dato due obiettivi il primo è legato a to do east ed è quello di migrare tutti i miei progetti su to do east quindi io avevo i progetti su queer li ho migrati su taskade adesso da taskade li devo migrare su to do east per avere tutto sotto controllo in un'unica app e il secondo è quello di fare il reel che avevo detto già a un tempo per le video animazione lo show reel sono già ben preimpostato sono abbastanza positivo anche perché mi viene richiesto da delle società con cui collaboro di avere dei show reel da mostrare quindi è qualcosa che adesso è diventato urgente quindi show reel per le video animazioni e migrare a to do east tutti e quanti i miei progetti personali lavorativi bene marco direi che ci sentiamo fra due settimane non sappiamo a che ora e come e dove non sappiamo che ora da dove ma sicuramente da dei posti belli che sa la location si trova una location figa da qui con un background da invidia ragazzi ciao a tutti e a tra due settimane ciao ricordati di iscriverti al gruppo telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate lascia una recensione su apple podcast speaker o le altre piattaforme di podcast facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate ringraziamo il nostro editore you media web se vuoi contattarci vai su digi imprenditori punto it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio a presto ciao 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 ciao